Poste è la più grande azienda italiana e adesso ha un progetto importante, Polis, per portare i servizi su tutto il territorio. Il problema è che servono le persone, bisogna assumere le persone e stabilizzarle, invece ci sono ancora tanti precari, tanti a tempo determinato, tanti part time e soprattutto tanti pendolari e così non si può garantire un servizio. Precariato e pendolarismo scandiscono la politica aziendale di Poste italiane, denunciano i lavoratori del sindacato della comunicazione della CGL in presidio davanti alla sede di Via Torino a Mestre. Chiedono di mettere in primo piano i dipendenti, spostati spesso da un punto all'altro, dicono, come pacchi postali. Noi abbiamo lavoratori di Venezia che lavorano a Padova, abbiamo lavoratori di Padova che vengono mandati a Venezia, abbiamo lavoratori in giro per la provincia per andare a fare mansioni che sarebbero coperti da lavoratori che avrebbero effetti sul loro pendolarismo pari a zero. Lei dove abita? Abita a Mogliano Veneto. E dove lavora? A Padova. Quanti chilometri fa al giorno? 95 chilometri al giorno. Lei dove abita? A Mestre. E dove lavora? Al CMP di Padova. E quanti chilometri fa al giorno? Faccio 37 chilometri andata e 37 chilometri ritorno. Altro problema è quello del personale precario o part time. Il part time è una condanna, perché condanna i lavoratori ad essere poveri pur lavorando. È un'esigenza che crea l'azienda, perché così ha dei lavoratori più flessibili, più ricattabili, che hanno bisogno di sbarcare il lunario e quindi fanno turni, fanno straordinari, solo ed esclusivamente perché l'azienda sfrutta la loro condizione. Grazie.